Cosa abbiamo, Jimmy? Annegamento. Donna Bianca, morta da circa sei ore. Oh, cazzo. Aveva un documento? No, niente. Età? 14-15 anni. Si sono accaniti sul suo corpo. Mani e genitali sono state rimossi. Sono stati mangiati dai pesci? Le parti che le mancano non le mangiano gli animali. L'hanno mutilata prima di gettarla in acqua. Se non hanno usato un bisturi, era qualcosa di affilato comunque. Occhi, palpebre. Sì. La mano sinistra. Scomparsi. Non ci sono. È questa la causa della morte? No, no. La ragazza è morta perché le hanno tagliato la gola. Si è dissanguata. Nelle vene c'era limo fluviale. Le uniche tracce di DNA trovate appartengono a lei. Sì. E questi segni... Guarda qui. Sembrano segni fatti da una corda. L'hanno appesa per i piedi. Come carne da macello.